Per tutti i miei amici palio, keto che stanno là fuori che vogliono aiutare anche la microbioma oggi vorrei fare con foodspring un bulletproof coffee però altamente proteico. Come lo faremo? Lo faremo con il nostro shape shake al caffè, caffè proprio, il burro grass fed vuol dire un burro organico un burro che è stato lavato a terra ok e poi olio di cocco perché olio di cocco aiuta anche grazie medium chain fatty acids, ok? La metteremo tutti insieme per fare una sorta di un caffè arricchito arricchito che ci aiuta proprio a dare i grassi che proteggono la microbioma. Infatti il burro specialmente il burro organico è molto importante per la parete del vostro intestino perché non dici burro è grasso, sì però noi non stiamo dicendo di usare tanto 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 burro ma burro certo è grasso però anche pieno di nutriente per il nostro microbioma ci aiuta a proteggere la parete del nostro intestino per poi ridurre la risposta del nostro sistema immunitario riducendo il sistema diciamo la risposta del sistema immunitario riduciamo l'infiammazione cronico riducendo l'infiammazione cronico cominciamo a ridurre problemi legati alla diabete, sindrome metabolica, allergie e altri problemi articolari sono anche legati a un microbioma malsano perché l'infiammazione nel corpo si sfoga in tanti tanti modi. Aggiungiamo scusate perché il mio olio di cocco essendo un grasso saturo quando viene raffreddato diventa duro come il burro ok così però è un grasso molto sano ok così abbiamo messo un po di burro un po di olio di cocco e poi aggiungiamo un cucchiaio di proteine di food spring alla nostra diciamo a caffè ok andiamo poi a mischiarlo andiamo a frullarlo diventa quasi una sorta di frappè anche il colore è un colore tipo frappè guardate quanto è è molto gustoso sembra una frappè ok è molto cremoso ok la potete prendere la mattina non aggiungere zuccheri ok e ne mettiamo caffè burro organico olio di cocco e un pizzico di proteine grazie a food spring e passare passerete un giorno a prova di pallotola per il vostro intestino ciao